Il genio civile di Agrigento, diretto dall'architetto Rino Lamedola, nel corso dell'ultimo mese ha concluso sette interventi di sistemazione idraulica al fiume Ipsas, Torrenti Femmina Morta, Can Salamone, Fiume Vecchio, Della Palma e Affluenti del Molarella e Vallone Cannatello, il tutto con un investimento di risorse stanziate dalla regione per 1.500.000 euro. A tali interventi si aggiunge adesso la conclusione dei lavori di sistemazione idraulica del tratto finale del fiume Salso con fonti della regione per 891.800 euro e che hanno interessato la manutenzione del tratto finale del fiume per una lunghezza di circa 4 chilometri sino alla foce. I lavori sono stati eseguiti dalla Rigu SRL di Catanzaro, risultata giudicataria a seguito di gara con procedura aperta. Lo stesso Rino Lamedola afferma, grazie alle risorse stanziate dal governo regionale, grazie alla competenza e dall'impegno dei funzionari incaricati, continuiamo ad alimentare una proficua ed efficace campagna per ridurre il rischio ideologico del nostro territorio. E nelle scorse settimane il genio civile di Agrigento, diretto dall'architetto Rino Lamedola, ha disostruito il torrente Canne a San Leone e ripulito un tratto di spiaggia del Veale delle Dune. Adesso le acque defluiscono meglio e non immadono la strada delle dune. Tuttavia, afferma Claudio Lombardo, coordinatore dell'associazione ambientalista Maria Amico, Questo corso d'acqua è fortemente inquinato perché vi arrivano i reflui abusivi di tante case e quando piove arrivano anche parte delle fogne che scoppiano nella zona del villaggio Mosè. Prima in spiaggia avveniva una sorta di fitodepurazione, ora invece tutto finisce in mare.